Buongiorno a tutti, soprattutto grazie di essere qua questa mattina. La conferenza stampa per presentare la nostra partecipazione alla BIT di quest'anno è un'occasione un po' anche per fare il punto della situazione, delle tante iniziative che sono in essere e soprattutto della volontà della nostra regione di cogliere al massimo le opportunità per un settore che può diventare fortemente strategico in un'epoca complessa e difficile anche di profonda trasformazione nella nostra economia. La regione Marche alla BIT di quest'anno partecipa con una novità importante dove protagonista sarà sicuramente il settore enogastronomico che rappresenta un'eccellenza e che trascina con sé l'eccellenza della nostra agricoltura, quindi ho anche il segnale della filiera enogastronomica che fa seguito a quella che rappresentano insieme due settori a cui abbiamo tenuto tanto, il distretto del biologico da una parte e dall'altra parte la legge sull'enoturismo. Sono sfide importanti che si collegano dal punto di vista amministrativo ma soprattutto dal punto di vista economico e politico per dare alla nostra regione opportunità importanti. La BIT, voi sapete, è un'occasione straordinaria per mostrare quello che noi siamo, quello che è il prodotto che possiamo vendere. Alla BIT presenteremo anche i risultati della scorsa stagione e sarà un'occasione per fare il punto con ogni parte del territorio, con tutti i distretti di cui noi disponiamo, che rappresentano un grande patrimonio perché possono fare della nostra regione una regione delle quattro stagioni a 360 gradi con un turismo che può destagionalizzare ma che in realtà ogni stagione può rappresentare in maniera non provocatoria ma sostanziale l'alta stagione. Ecco, allora oggi siamo davanti ad un programma molto intenso che ci vedrà protagonisti, credo, in maniera importante e spero anche con dei risvolti molto positivi. Io non vado oltre, ringrazio il dottor Bruschini ed Atim per la programmazione e per il contributo che sta portando a far vivere una fase nuova al turismo della nostra regione. Ringrazio tutto il Dipartimento per il lavoro svolto e ringrazio i chef stellati presenti qua insieme all'Unione Cuochimarchi e alle scuole alberghiere che rappresentano, come dicevo, sicuramente un'opportunità importante. Il lavoro che dobbiamo svolgere è un lavoro, è molto lavoro, perché è un lavoro di organizzazione, è un lavoro di promozione, è un lavoro di costruzione, di un'identità che vuole volgere velocemente all'eccellenza e vuole andare a crescere in maniera importante una fetta di economia della nostra regione. Sotto questo punto di vista, non voglio ripeterlo perché rischio di essere retorico, però credo che ci siano tutti i presupposti e dipende da noi, dalla qualità della nostra azione, della capacità di costruire questa forte immagine in Italia e all'estero per poi raggiungere i risultati che tutti noi ospichiamo. Io non vado oltre, vi ringrazio per essere intervenuti così numerosi e passo la parola al dottor Bruschini. Grazie, grazie Presidente sempre per le buone parole, per i sensi di stima che ci danno sempre una grande energia. Insomma, dicevamo l'altro giorno nella sede della Camera di Commercio, tra l'altro il Presidente Sabatini ci saluta e sta arrivando, stamattina aveva il Consiglio Camerale, quindi appena finisce il Consiglio Camerale ci raggiungerà. È il clima che si è creato in questi mesi, che ci dà forza e ci dà veramente la voglia di andare avanti con grandissima energia. Beh, oggi per me è una grandissima emozione, io ve lo voglio dire perché vedere un sogno che si è realizzato, ecco perché secondo me il tavolo importante non è il nostro Presidente, permettimelo, è questo che ci abbiamo davanti. Perché essere riusciti a mettere insieme tutte le eccellenze della Regione nel settore enogastronomico secondo me è stato uno sforzo che sembrava difficile ma in realtà è stato molto facile. Perché loro si sono messi completamente a disposizione e hanno capito lo spirito del tavolo di lavoro che abbiamo chiamato con termine aulico del Professor Cristini, fermamento stellato. Devo dire che c'è stata una grandissima collaborazione. Ci siamo visti, ci siamo conosciuti, io sinceramente non li conoscevo, ma c'è stata veramente una grande sintonia e questo è secondo me la più grande soddisfazione. Perché quando dicono che ah, nelle Marche è difficile fare squadra, è difficile mettersi insieme, no, non è vero. Bisogna osare, bisogna alzare l'asticella. Se si alza l'asticella delle cose, riusciamo ad avere questo risultato. Tutti uniti per fare una nuova promozione delle Marche, con grande energia, con grande cuore e con grande determinazione. E questo secondo me è il risultato più bello della Bit. Potremmo anche fermarci qua, volendo, perché comunque secondo me il messaggio è stato forte e chiaro. Possiamo stare tutti insieme e fare delle belle cose. Ovviamente oggi inizia il percorso, perché sarà un percorso che porterà questo stesso tavolo ovviamente all'estero. Perché il punto fondamentale sarà la Bit serve. La Bit è importante perché la Bit ci fa, ci dà quel ruolo da protagonisti che deve avere la regione Marche nel settore del turismo. Quindi questo lo sappiamo, dobbiamo lavorare per rafforzare la nostra immagine e quindi è bene che nei 37 eventi che ci saranno nell'area Talk si parli delle Marche, si presentino tutti i progetti di promozione che ci sono, si facciano conoscere i nostri territori e si dia un'idea di unità, di fare massa critica. Poi però dobbiamo sbarcare all'estero, quindi ci deve essere comunque un discorso di continuazione e sbarcare con questa squadra significa avere sicuramente successo. Quindi grazie agli chef, grazie a noi e a Daliano Cuochi e poi un grazie particolare all'amico Alessandro che ha creduto, noi ci siamo conosciuti all'inizio e abbiamo cominciato a lavorare insieme perché dobbiamo dare delle grandi, delle grandi prospettive ai nostri ragazzi. Dobbiamo convincere i genitori di mandare i figli negli istituti alberghieri, dovremmo fare un'azione forte nelle scuole medie per dire lì ci sono le possibilità di lavoro, ci sono le possibilità di lavoro prima all'interno della nostra regione, e poi per poter spiccare il volo ed andare all'estero, mettere questi ragazzi ambasciatori delle marche nel mondo, mandati a lavorare nei più grandi ristoranti, ma farli vivere una grande esperienza. E quindi abbiamo pensato, insieme agli chef, insieme ai cuochi dell'Unione Italiana Cuochi e delle Marche, di portare i giovani degli istituti alberghieri. Quindi eccellenza, ma partenza sempre dal basso della promozione. E questo penso che sia un mix estremamente importante perché diamo anche ai giovani un sogno e soprattutto diamo questo messaggio che c'è per tutti la possibilità di avere un ruolo nelle marche e poter sviluppare e poter migliorare nella loro professione nei ristoranti delle marche. E così eviteremo anche l'emigrazione dei cervelli, delle nostre grandi arti dal punto di vista del manufatto. Cosa abbiamo cercato di fare? Quindi questo è il messaggio di fondo della BIT. Si può fare squadra, si fa squadra con le eccellenze e le eccellenze diventano un momento di promozione fortissimo. Poi abbiamo tentato di fare uno stand un po' più avveniristico. Io ve lo faccio vedere rapidamente. È su due... ha due centri focali che sono da una parte, diciamo così, il soppalco, dove saranno chiamati ad operare gli chef, e dall'altra parte la parte dell'area talk, che avrà un mega schermo di 5 metri e mezzo per 3, questa parte qui, quindi avremo 16,5 metri quadri di video, di video wall, dove verranno presentati tutte le eccellenze delle marche, nei vari filmati eccetera. Al centro ovviamente rimarrà la parte dedicata a tutti gli operatori turistici. Abbiamo fatto uno sforzo notevole, avremo 55 postazioni, non vi dico per farle uscite 55 postazioni, c'è voluto Harry Potter, però ci siamo riusciti, abbiamo giustamente stressato la fiera di Milano che ci ha fatto questa cosa, abbiamo fatto 10 progetti, però poi ci siamo riusciti e pensiamo. E poi abbiamo la parte delle sorprese, che è la parte sotto, la parte sotto il soppalco, dove ci sarà un'area, un'area laboratorio diciamo, e poi comunque nel corso dei prossimi giorni lo andremo a svelare in maniera così, insomma step by step. Io potrei anche chiudere qui, non vi voglio dare ulteriori informazioni perché vorrei passare la parola ai nostri protagonisti, ai nostri chef che ancora ringrazio perché veramente hanno fatto un lavoro che è stato un lavoro quotidiano. Ogni giorno abbiamo fatto una chat, ci siamo sentiti, abbiamo messo una serie di contributi, abbiamo scelto i vini, abbiamo scelto i prodotti, cioè è stato veramente un lavoro di costruzione, ma un lavoro di costruzione che ci ha dimostrato che si può fare squadra. E quindi secondo me oggi il messaggio principale, torno a ripetere, è questo, che le marche possono fare squadra se c'è un clima buono, se c'è una lealtà di fondo e se c'è una squadra che lavora unita per un unico obiettivo. Bene, bene, grazie naturalmente al Presidente, al Direttore, a tutti voi presenti. Io passo ad annunciare il ruolo dei ragazzi, non prima di aver detto che da oggi nasce un patto di buon gusto, io direi di buon tono, agreement tra le istituzioni, gli chef e tutta la marchigianità, per rendere questa regione sempre più europea, sempre più attrattiva, sempre più vincente. Il firmamento stellato che col Dottor Bruschini abbiamo così, un giorno manifestato proprio per creare un alone attorno a questi ragazzi, non è stato poi così... Devo dire che ci ha aiutato anche un bel piatto dei spaghetti al tartufo, insomma, quello ci ha un po' ispirato. Certo, certo. Quindi eravamo, abbiamo detto perché non portare questa esaltazione dei cuochi dal nord al sud delle marche a raccontare un messaggio d'amore della marchigianità nel mondo. Io credo che, hai citato il tartufo Marco, tra il tartufo tutto l'anno, gli chef, siamo l'unica regione in Italia, gli chef e la bellezza di questo territorio si possa veramente abbracciare un turismo internazionale di grande fascino. E ovviamente credo che valorizzeremo le pregevolezze di ognuno di voi ragazzi, il talento e io credo anche i territori perché veramente dalla porta d'ingresso delle marche che è Gabice Monte e vado a salutare lo chef Davide Di Fabio, il ristorante dalla Gioconda, un applauso e ovviamente ti chiedo... Se avete un altro microfono anche per gli chef o passo il mio? Se no, Fabio, Davide, scusa, puoi narrare il piatto che presenterai alla BIT ma non nella tecnicità, ma nell'ispirazione emozionale che ti ha suscitato quando lo hai preparato? Prego. Faccio un appello, ovviamente noi per le 5 del pomeriggio vorremmo chiudere la conferenza stampa, quindi mi raccomando i tempi, anche per chi dovete andare a cucinare insomma, quindi... Ecco, grazie. Enrico premeva infatti. Innanzitutto grazie a tutti, è un onore essere qua, essere stati invitati, con insomma tutti dei amici e colleghi a poter raccontare qualcosa, quello che facciamo nel ristorante. Per essere breve, il piatto che andremo a portare insomma lunedì alla BIT è uno dei primi piatti che ho fatto all'apertura del ristorante quasi due anni fa. è un modo proprio di interpretare il territorio con dei prodotti locali, ma farlo uscire fuori dal territorio, quindi ricostruire un po' la carne del wagyu con la sua dolcezza e la sua amarezzatura attraverso due prodotti, l'IGP marchigiano, quindi il vitellone e il gambero rosa. che vengono trasformati in una battuta, mescolati insieme, conditi con un tocco di olio al sesimo che mi ricorda appunto l'Oriente, e questo brodo. Siamo nella terra insomma dei duchi, quindi nel Monte Feltro, a Qualagna, la zona dei tartufi, un brodo fatto con un tartufo nero estivo che tira fuori queste note agrumate che vengono accentuate da iuzu e bergamotto, e servite con accanto un crossino con la stessa tartare, crema di torlo d'uovo e tartufo nero. Quindi penso che insomma rappresenta un po' il ristorante e anche il territorio. Allora, sempre poi la sequenza gustativa ve la do dopo nel finale, adesso parto da nord a sud. Allora, Stefano Ciotti, siamo al ristorante Nostrano al centro di Pesaro. Stefano. Buongiorno a tutti, anche io ringrazio davvero per avermi invitato, sono molto felice di essere qui. Non sono collegato da un sacco di anni e condividere con loro questo tipo di avventura, davvero grazie, grazie mille perché è un po' come amici miei che si ritrovano per fare... Io sono un cuoco al quale piacciono i sughi e gli intingoli, quindi ho pensato di portare delle trippette di pesce, in questo piatto mi vedo un po' come un contadino del mare, perché le marche sono una regione che mescola perfettamente la campagna e il mare nella cucina, e quindi ho voluto idealmente mettere in un piatto la campagna, la cultura della campagna, quindi la trippa, però ho preso le trippe dei pesci nostrani e le ho fatte in umido con un po' di finocchiella e un po' di aceto e le ho servite con una crema di patate arancio e sopra naturalmente il tartufo nero pregiato. Dalla provincia di Pesaro a quella di Ancona, nonché nella bellissima Loreto, ristorante Andreina Enrico Recanati. Buongiorno a tutti, è un grandissimo piacere essere qui e far parte di questo progetto. Il piatto che portiamo è un piatto che racconta il nostro territorio, quindi è un cappelletto che faceva mia nonna Andreina, ho tenuto la stessa ricetta modificando alcune cose per una questione di gusto e di tempi, e anche qui sfogliamo la pasta con in mezzo il tartufo nero e lo serviremo con una crema al burro, affumicato e tartufo nero. Quindi per raccontare un territorio bisogna anche portare anche dei ricordi, dei ricordi del cuore, delle ricette che fanno parte della nostra tradizione. Un saluto a tutti e grazie. Allora, dalla provincia di Ancona passiamo a quella di Fermo, siamo a Porto San Giorgio, Nikita Sergev che oggi compie anche gli anni, io quindi gli farei anche un applauso. Ristorante Arcade. Salve a tutti, buongiorno, grazie per l'invito e per questa partecipazione a questo grosso firmamento stellato, come mi è piaciuto molto, io l'ho visto sul gruppo di WhatsApp il nome e mi sono detto finalmente sono lì. È una bellissima cosa stare a questo tavolo, sono 24 anni che vivo nelle Marche e secondo me c'è un vantaggio, se si può dire, rispetto ai miei colleghi, che riesco a vedere la nostra tradizione, vi dico la nostra perché me la sento proprio anche mia, quella marchigiana, un pochino da fuori, quindi riesco a vedere un po' i pro e i contro della situazione. E quindi ho pensato di portare un piatto che è un po' qualeidoscopico, se vogliamo dire, che utilizziamo un pochino gli ingredienti di terra, di mare, però che nell'insieme ricostruisce un pochino, quindi serviremo il mare con un'ostrica, una crema di girasoli, quindi immaginate le colline gialle, belle, pieni di girasoli, il verde di fico e delle lenticchie cotte un po' particolari, nere, che raccontano un po' delle tradizioni mie come se fosse il caviale, quindi un mix and match della situazione che in tutto insieme racconta le Marche. Quindi venitelo ad assaggiare. Sempre a un tiro di schioppo, sempre nella bella Porto San Giorgio, ristorante retroscena, lo chef Pierpaolo Ferracuti. Buongiorno a tutti e anche io ringrazio per l'invito di essere qui con i colleghi, i nostri amici. L'altro giorno Giuseppe mi diceva al telefono di specificare il piatto e di rappresentarlo attraverso un aggettivo. E quindi il piatto che porterà retroscena, l'aggettivo con cui lo descrivo, è evocativo, perché è legato più che altro all'ingrediente, ma alla memoria, perché è un piatto dell'infanzia, diciamo. Tre anni fa, quando abbiamo aperto la nostra attività al mare, abbiamo rivisto quello che succedeva quando eravamo piccoli, un po' su tutta la riviera adriatica e penso anche loro. Praticamente Ciro, o il salvo di turno che vendeva il cocco, questo cocco bello, cocco di mamma, che vendeva il cocco e lo lavava con quest'acqua di mare. Quindi l'idea che ci è avvenuta era quella di rappresentare un dolce legato a questa memoria. Il dolce si chiama cocco bello e gioca sulle diverse consistenze di cocco. Abbiamo un gelato al cocco che viene lavorato con l'acqua di osseca, osseca ghiacciata, limone bruciato per dare una spinta, spuma di cocco e una meringa al cocco sopra per terminare. Passiamo alla provincia di Ascoli Piceno, la meraviglia dei Sibillini, Monte Monaco, il Tiglio, naturalmente Enrico Mazzaroni. Enrico. Grazie. Buongiorno a tutti e anche io mi unisco ai miei colleghi per fare ringraziamenti alla Regione e a chi ci ha voluto in questa manifestazione bellissima. Per me è davvero la prima volta per tutto perché è arrivata qualche mese fa la stella, ancora la stiamo digerendo a pezzettini, anche se poi ovviamente siamo molto felici, siamo stati molto felici di aver portato la prima stella a Mishra nella provincia di Ascoli e soprattutto di averla portata in un agriturismo perché noi siamo un agriturismo. Alleviamo, comunque abbiamo la possibilità di allevare il bestiame che poi ovviamente macelliamo e vi diamo da mangiare e visto che un po' in questo momento mi sento di rappresentare la provincia per intero e visto che conoscendo la mia storia io ho fatto il peregrinaggio due anni a Porto Recanati vicino al mio collega e devo dire che in quel periodo ho avuto la solidarietà di tutti i colleghi che sono qui presenti ma anche di tutti gli altri, questo gli fa onore devo dire e questa permanenza di due anni al mare mi hanno fatto conoscere di più il pesce. Quindi il mio piatto è la sintesi di tutto questo. Io sono uno chef a cui piacciono le frattaglie perché credo che il quinto quarto sia importante da mangiare e vada rivalutato all'interno della cucina, quindi porterò il cervello di agnello fritto che fa parte della mia tradizione, della tradizione della montagna, che unisco a un pesce che sono i gamberi rossi. Quindi questa commissione tra mare e montagna e con la parte più dura della montagna che sono le frattaglie che non mi vergogno, anzi sono molto felice di portare nei miei piatti. Quindi c'è questa commissione, poi c'è unita con un latte di pecora, una maionese di latte di pecora e una cialda croccante, il mio piatto. Benissimo, allora ovviamente questo è nella giornata di lunedì, però ovviamente abbiamo la presenza anche della Federazione Italiana Cuochi e poi dell'Istituto Alberghiero Panzini. Luca, Luca Santini, a te la parola naturalmente per la giornata di domenica. Grazie Giuseppe, grazie a tutti. Anche per me è una giornata di festa oggi perché siamo un gruppo veramente, ci conosciamo tutti molto molto bene quindi c'è grande rispetto, grande amicizia anche con alcuni dei nostri colleghi. Per me con la chiacchierata di Giuseppe abbiamo in un qualche modo cercato di fare una sintesi perché si cercava di parlare di tradizione e allora ho detto sicuramente gli amici stellati non faranno e quindi noi abbiamo pensato di incaricare l'Associazione Cuochi di Macerata perché noi siamo un'unione di cuochi regionale di portare i vinci e sgrassi che hanno appena avuto l'STG. Quindi per noi è stata una grande idea quella in qualche modo di poter iniziare a dar spazio a questo piatto anche fuori. Se ne parla spesso e però vanno assaggiati. Io vi do il consigliere che ci siamo conosciuti appunto a Macerata. E lo so. E quindi insomma siamo veramente felici finalmente di portare questo piatto quindi è stata la nostra associazione e poi porteremo anche un coniglio anche noi con il coniglio ripieno con il nero pregiato perché comunque ci va sempre valore e andiamo in qualche modo ad arricchire questo piatto della tradizione che il coniglio un po' diciamo la verità alla domenica e visto che cade proprio di domenica non so a casa vostra ma a casa mia si mangiano i vinci e sgrassi e il coniglio. E quindi questa è proprio una regola sacrosanta. Io l'ho mangiata anche ieri perché era domenica e quindi è come conferma che il piatto è della domenica e quindi noi abbiamo pensato. Poi il nostro diciamo che c'è molto vicino a pasticceria Picchio con Roberto Picchio e il pasticcere Marcozzi Claudio ci prepareranno diciamo un piccolo mignon abbiamo chiesto qualcosa con il Varnelli quindi credo che ci farà una piccola crema al Varnelli con un bacio di lama e questo è un po' quello che sarà presente domenica un po' come se fosse veramente domenica insomma che siamo tutti insieme a mangiare a casa nostra. Luca Santini presidente della Federazione Italiana Cuochi Marche ecco il firouge di quest'anno all'abite ovviamente lo dico proprio così la presenza dei giovani di tutti gli otto istituti marchigiani la presenza degli stellati quindi giovani che diventano stelle della cucina per presentarci a un pubblico internazionale e veramente ce n'è dall'entré fino al dessert i giovani degli istituti alberghieri delle Marche che sono coordinati naturalmente dal preside dell'istituto alberghiero Panzini naturalmente Alessandro a te la parola Buongiorno a tutti grazie Allora questa nostra collaborazione ormai nasce qualche anno fa grazie all'intuizione del presidente Acquaroli quando insomma insieme abbiamo portato mille persone in regione persone che erano studenti dell'università di turismo e di neocastronomia di tutta Europa è lì che questa intuizione è stata adesso portata avanti dal direttore Bruschini perché il presidente aveva l'intenzione di investire sul futuro si investe sul futuro se sostanzialmente sulle persone che vivranno quel futuro quindi la cosa più importante oggi era quella di investire sui nostri figli sui ragazzi quando sono giovani quindi questi ragazzi che domani potranno permettere a noi di avere dei rendimenti più duraturi nel tempo perché qui abbiamo una generazione vincente già formata che ci produce degli effetti immediati ma la regione comincia ad avere e avrà degli effetti a lungo termine se loro potranno trasferire le loro competenze acquisite a chi dopo di loro è allora perfetto che il direttore Bruschini sulla scia appunto su questa intuizione e l'investimento negli istituti di turismo e neocastronomia ha deciso diciamo di con queste parole mi ha detto insomma la vita è fatta di maestri e apprendisti io ho trovato i maestri tu ce li metti gli apprendisti? ecco sulla base di questo ecco gli alberghieri da me rappresentati perché insomma come coordinamento ci dividiamo per cui oggi sono io alla prossima volta ci sarà qualche altro collega siamo pronti a fornire gli apprendisti ecco quindi dateci spazio che noi faremo il nostro e i vostri figli domani avranno il futuro che tutti ci auguriamo allora siamo quasi in conclusione volevo dire che ogni passaggio di queste presentazioni e preparazioni enogastronomiche saranno raccontate dagli chef narrati magari dal sottoscritto abbinati a calici di vini marchigiani assolutamente strepitosi per raccontare un messaggio di territorio che è quella della marchigianità in ogni lembo e prima di concludere questa conferenza stampa presentazione tornerei a dare la parola al dottor Bruschi solo per dire ancora grazie ecco mi fa ancora più piacere perché ho visto che tutti gli chef il preside a me piace chiamarlo preside perché sono vecchio hanno proprio capito lo spirito di questa iniziativa stare insieme per promuovere casa Marche quindi far sentire tutti bene far capire a tutti che le Marche sono veramente la regione di quella che è l'autentica tradizione e quindi ne vale la pena venirci a trovare e poi chi viene come il sottoscritto non se ne va più via grazie a tutti grazie grazie grazie